Oggi è martedì, venerdì che sarà l'apertura della pista a Bastia e oggi dopo una notte piena di pioggia, ma proprio piena io ho arrivato di prima mattina e il gusto c'è a fare la pista con tanto di acqua speriamo che riscappo la macchina scivola, scivola molto bene la farò uscire la macchina ribola un po' la facciamo guilla benissimo e beccati anche gli schizzi ho perso il giro della pista eh 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 comunque dovremmo riuscire in tutto il tracciato a parte il panettone non lo so non lo so Siamo a liscio La macchina ne che sguilla Qualcosa di più E noi ci proviamo lo stesso Porca maiala Vedete bene Che ho tutto Un braccio infangato E' un Davvero un casino Porca di quella Puttana merda A noi Con la mitica Honda CRV Non ci facciamo un problema Entriamo Sempre Dentro Non ci facciamo un problema Non ci facciamo un problema Ah bloccato Bloccato Signore Andiamo dentro Va bene Qui la situazione Che sono bloccato Quindi vi saluto Dalla pista Che mi servono Tutte le due mani Per riscappare Ora